Musica Belli raga sono Arion Video notturno molto veloce per come fare il perk Aolic Raga finalmente è tornato nuovamente lo specializzato Gli 8 perk famosissimi che c'erano su Black Ops 3 Per prima cosa raga come avete visto mi sono messo la salsa segreta Questo video raga è di un inglese poi lo metto in descrizione se volete ci passate Comunque vi mettete questa salsa segreta come perk E dovrete prendere per 5 volte questa salsa segreta A questo punto vi fate uccidere e praticamente dovete respawnare in round successivo Al vostro respawn adesso come vedete avete 5 perk Praticamente 4 perk li hanno aggiunti così totalmente random Questo praticamente non ci fa capire che probabilmente ci sarà qualche mini easter egg Che ci farà ottenere appunto questi 4 perk aggiuntivi E niente raga Come sempre vi ricordo di iscrivervi Lasciate un bel like Per questo perk alic è tutto Bella Ciao 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 Ciao